Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un dolce gelato alla marena. Questa è una ricetta molto semplice, veloce e facile da realizzare. Infatti abbiamo come base della panna montata, dello yogurt e del latte condensato. Questa è la base per il nostro dolce gelato, che poi andremo ad arricchire con le amarene, delle gocce di cioccolato e un po' di granella di biscotti. Quindi non ci resta che iniziare questa bella ricetta, ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ok? Ed ora iniziamo la preparazione. In una ciotola mettiamo lo yogurt. Questo è uno yogurt naturale. Allo yogurt aggiungo il latte condensato. Inizio a mescolare. E unisco la panna montata. Questa è panna montata già zuccherata, che ho già montato in precedenza. Se usate la panna fresca, aggiungete qualche cucchiaio di zucchero. Ok? Questo dolce non ha bisogno di zucchero appunto perché la panna è già zuccherata e il latte condensato naturalmente è dolce. Quindi adesso andiamo a inserire con delicatezza la nostra panna. La incorporiamo. Facciamo sempre il movimento dal basso verso l'alto. Continuo. Ed ecco qui. La crema è pronta. Mettiamo un po' da parte. E continuiamo la nostra ricettiva. Come vedete, mi sono munita di mattarello e di carta da forno. E vado a ridurre in polvere questi biscotti. Sì, perché non faccio la solita, diciamo, base per questo dolce, perché non serve. Però un minimo, insomma, di granella di biscotti ci sta. Quindi adesso io faccio così. Vedete? Con il mattarello. Faccio così. Ed ecco qua. Metto un po' da parte. Così. Mi sono munita di uno stampo da plum cake che adesso vado a rivestire con la pellicola alimentare. Però per facilitare questa operazione, ho preso un pezzettino di burro, vado leggermente a ungere. Perché? Perché questo serve per far attaccare bene la pellicola ai bordi. Ok? Per non farla muovere. Dunque, io prendo la pellicola e faccio così. Resto un po' morbida. Ok. E poi, con attenzione, scendo giù. Così. Metto sui bordi. Togliamo le bollicine d'aria. Ecco qua. E andiamo a rivestire. Visto com'è facile? Vedete? Ok. Ed ora, cominciamo a riempire questo stampo. Ho qui delle buonissime amarene sciroppate con il loro sciroppo. Prendo un pennellino, che ho dimenticato di prenderlo prima. Allora, prendo un po' di sciroppo e lo metto alla base. Con il pennellino vado a spennellare e a distribuire. Ecco qua. Però, con attenzione, mi raccomando. Altrimenti si sposta. Ecco qua. Se si sposta, facciamo così. Agli angoli, vedete? Alla base, sempre alla base, che poi questo verrà capovolto naturalmente, e quindi risulterà poi in superficie. Metto delle goccine di cioccolato. E una manciata di biscotti in polvere. Ed ora, iniziamo a inserire la crema. Con la spatola o con la marisa andiamo a sistemare bene. Ed ora, a metà della crema, inseriamo le amarene con un po' di sciroppo. Le possiamo mettere intere oppure spezzettate, come voi preferite. Magari le spezzetto, no? Le spezzo a metà. Così. E adesso, finiamo di completare il dolce con la restante crema. E naturalmente, alla base, mettiamo un altro po' di granella di biscotti. E sempre alla base, aggiungo un altro po' di sciroppo di amarena. Così. Ed ora, non ci resta che mettere in congelatore per il tempo necessario che si rassodi del tutto. A più tardi. Sono passate all'incirca tre ore e il nostro dolce si è solidificato. Ora, non ci resta che sformarlo e naturalmente assaggiarlo. E mi raccomando, prima di sformarlo, attendete qualche minutino. Ok? Quindi adesso io vado con un vassoio, così, e capovolgo. Ecco qua. Già così è bellissimo. Adesso non ci resta che magari guarnirlo ancora con dello sciroppo di amarena, delle amarene buone sopra e poi anche del cioccolato, se vogliamo. Quindi facciamo così. Metto ancora qualche goccia di cioccolato. I nostri amareni. Ed ecco qui. Amici carissimi, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima. Un like al video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E se vi piace, commentate. Che dire. Io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Grazie di cuore. Ciao. 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 Ciao.